Santità, mi faccio voce di questi 5.000 consacrati qui nell'Aula e oggi abbiamo scritto queste due fogli che vorremmo leggerli e consegnarli come breve sintesi di questo anno della vita consacrata. Sul confine dell'anno della vita consacrata, verso il futuro, guardando il mondo con occhi di misericordia, la chiusura dell'anno della vita consacrata e l'avvio del giubileo della misericordia rappresentano un'opportunità per rivisitare la grazia ricevuta e quella che il Signore continua a espandere sulla vita di ciascun consacrato, consacrata e su tutto il popolo di Dio. Quest'anno è stato un suo regalo, Santità, a tutta la Chiesa e senza dubbio ha aperto cammini di speranza, desiderio di dire al mondo che seguire Gesù è una gioia che porta a pienessa la vita, la riempie di senso e di significato fino all'ultimo respiro. Noi tutti spremiamo gratitudine dal più profondo del cuore a lei, Santità, per averci fatto questo magnifico regalo, per averci aiutati a riprendere fiduciosamente la via dei testimoni e dei profeti. Che grande opportunità è stata quella di poter condividere la bellezza della nostra vocazione e missione, sebbene non sempre la viviamo al massimo e a volte la oscuriamo, perché decidiamo di vivere scontenti e in un cono d'ombra. Le sue intenzioni per quest'anno, Santità, sono state chiare. Lasciar trasparire la bellezza della vocazione dei consacrati e delle consacrate, come ci ha detto nella sua lettera a tutti i consacrati all'inizio di quest'anno. Non è quindi un anno soltanto per la conversione, sebbene questa sia sempre necessaria, ma una chiamata a rivitalizzare la gioia, la tenerezza e la speranza. Un anno come tempo di grazia, spazio teologale, dove sentirsi amati da Dio e dalla Chiesa, proiettati per mezzo dello Spirito all'uscita missionaria, come segno di un amore non rassegnato, ma intriso di zello e condivisione coi poveri e gli ultimi. cosa abbiamo compreso e maturato in questo anno della vita consacrata? Il rischio sarebbe quello di dire le cose che abbiamo fatto, peccando, come lei ci ricorda in Evangelii Gaudium, di mondanità spirituale, o fare anche la litania del non fatto. In realtà, il frutto più bello offertoci dalla Chiesa è riconoscere ciò che Dio ha fatto per noi. E cioè, ci ha amati con amore l'Eterno, dimostrando di fidarsi di noi e per questo continuiamo ad impegnare fino in fondo la nostra vita. Ci ha guardati e noi ci siamo lasciati guardare, come dice Santa Teresa di Gesù. Sperimentando che abitare nello stesso sguardo è la cosa più grande, quello che maggiormente riempie di gioia il cuore di Dio, perché sa di poter contare su di noi. Ci ha sussurrato che non è agitato per le nostre diminuzioni numeriche, perché è proprio del Vangelo credere nella forza insita del piccolo seme quando accetta di essere messo nel solco della terra e morire per poter dare frutti di vita. Ci ha fatto gioire ricordandoci che le nostre rughe e i capelli bianchi non sono segno di declino, ma tracce tangibili di una fedeltà, di una lotta, di una vita spessa con amore, nascosta con Cristo in Dio. Ci ha consolati ricordandoci che i giovani sono una gracia rigenerativa, vitale e apportatrice di sangue nuovo al nostro carisma. Ci ha rassicurati dicendoci che se non abbiamo alcun rilievo sociale non è un dramma, ma una liberazione, purché non rinunciamo a sognare i sogni di Dio e di investire la vita a favore dei più poveri, nella certezza che i carismi non finiranno con noi, perché non ci viene richiesto di morire con dignità, ma di vivere con senso, passione e fiducia. Ci ha ramentato che le comunità, le stesse opere, devono generare persone capaci di prendersi cura l'uno dell'altro, soprattutto dell'uomo ferito, perché sta a cuore a Dio vederci nelle periferie esistenziali, alla mensa dei pecatori, come direbbe Santa Teresina del bambino Gesù, dove la vita chiama per curare le ferite dell'uomo, come testimoni di Gesù Cristo. Ci ha sollecitati, infine, a svegliare il mondo, ad essere audaci rispetto alle emozioni dello Spirito, fiduciose del fatto che già ci ha dato cento volte di più di quello che abbiamo lasciato. Per tutte queste ragioni non è casuale che, nella prospettiva di riforma che Sua Santità vuol portare avanti, l'anno della vita consacrata si intersecchi con quello della misericordia, ma ci rimanda un più profondo significato ecclesiologico, come se ci ricordasse che il primo frutto del rinnovamento del popolo di Dio, di cui i consacrati e le consacrate sono parte, sia proprio quello della misericordia. Un anno allora, quello della vita consacrata, vissuto come tempo di discernimento alla luce del troppo grande amore di Dio, e del suo amore spinto al massimo, come efficace cura evangelica, l'unica capace di generare la trasfigurazione della vita, delle strutture, degli stessi carismi, fino alla piena configurazione cristica, fino ad avere in noi i sentimenti che furono in Cristo Gesù. La grazia di questo anno della vita consacrata sta nel fatto che abbiamo compreso che siamo all'inizio di un cammino da condividere, che non siamo chiamati a competere, ad essere Golià, ma a rifare la storia di Maria di Nazareth, ad essere misericordia, un lembo di tenerezza su questa piccola parte del mondo, una carezza sul mondo. Grazie Santità per questo anno. Preghiamo un'Ave Maria alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, signora di te, tu sei benedetto a te, 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 benedetto a te. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E pregate per me, non dimenticatevi. Grazie. Grazie.